Avete incontrato il fiume proprio in questo film, no? Quindi è proprio in mezzo, cioè i vostri due personaggi si trovano proprio in mezzo al fiume. Quindi com'è andato questo processo di conoscenza nei confronti del fiume, che è proprio uno dei protagonisti del film, veramente, no? Eh, bisogna tuffarsi. Un po' il fiume è appunto questo sconosciuto, io proprio non sapevo niente. La storia mi ha anche appassionato leggendo proprio per quello, perché un mondo totalmente sconosciuto, selvaggio anche, ma che ha un rapporto con l'uomo molto forte. Quasi più, appunto, cioè l'uomo tenta di addomesticarlo, ma il fiume appunto straripa poi. Cioè c'è bisogno di una continua conoscenza, la capacità di, come dire, la finezza con cui le persone che vivono all'intorno definiscono ogni piccola cosa, ogni singolo cambiamento, turbamento dello stato di normalità, chiamiamolo così, quando il fiume è pacifico, è impressionante. E quindi proprio il piacere di tuffarsi e di cercare di lasciarsi anche un po' trasportare dalla corrente. È stato, beh, è stato molto bello. Io mi sento sempre molto a mio agio nell'andare ad affrontare delle cose che non conosco proprio da un punto di vista terreno, no? E quindi era diverso da tutte le cose che avevo già indagato, era diverso sotto molti punti di vista, da un punto di vista proprio di impatto, quando arrivi in quei luoghi non somigliano a nient'altro, davvero. Appunto di vista di clima, però poi a un certo punto mi sono reso conto che tutte queste cose, anche quelle che in qualche maniera trovassi disturbanti, sarebbero state oro per la costruzione dei personaggi, per il racconto, perché infatti poi il film è un bellissimo miscuglio tra quello che poi noi razionalmente decidiamo e quello che il territorio in qualche modo ci butta addosso, ci costringe, in questo modo ci costringe a reagire, no? Ed è stato molto bello, soprattutto, diciamo, ci sono stati dei momenti, corsi di sopravvivenza con Gigi, ma anche persone del posto che mi hanno insegnato a pescare il pesce siluro, l'ho fatto negli allevamenti, l'ho fatto a fiume, l'ho fatto fuori, e vedere quanto quella cosa venisse fatta per sopravvivere, in qualche modo ha creato un background importante per me, per il personaggio, rispetto all'idea, ne abbiamo parlato molto oggi, che il film parla anche di questa linea che c'è, che quanto, dove, perché, o se non si può superare se quello che si fa, si fa per sopravvivere, è una cosa matematica che ci riguarda, è anche molto contemporanea. È interessante poi vedere qualcosa di così estremo Italia, no? Non pensiamo che nella nostra urbanizzazione, nelle nostre campagne ben codificate, ci possa essere spazio ancora per una terra così selvaggia, no? Anche questo è un momento. Sì, è anche molto a rischio, cioè nel senso appunto che trovare il modo di mantenere questo, e ci sono dei parchi bellissimi poi tra l'altro, intorno dove le persone, alcune anche volontariamente, il mio personaggio è una guardia ittica, uno che non viene pagato per vigilare sulla salute del fiume, quindi sono dei luoghi a rischio, perché poi capita appunto facendo un film di informarsi, di leggere così, ma già negli anni Ottanta il fiume era considerato come qualcosa che era già cambiato rispetto agli inizi del secolo. Si vedono delle foto a un certo punto nel film in cui si richiama la vecchia saggezza anche di fiume, il vecchio modo di stare con questo organismo vivente e quanti attentati invece subisce, in quel caso per le industrie chimiche che sversano appunto le loro schifezze, provo a fare la zetta così, le loro schifezze, e invece sempre più anche, diciamo, la devastazione dei paesaggi, eccetera. Quindi abbiamo queste ricchezze, queste meraviglie e dobbiamo contribuire affidando non soltanto a chi sta lì la capacità di vigilare, ma anche a noi stessi incrementando l'attenzione e le leggi che salvaguardino il paesaggio. Nel tuo caso insomma hai veramente affrontato varie tipologie di estremi, no? In questo periodo, con cui negli ultimi tempi, e questo è un ulteriore elemento particolare, no? Beh, sì, sai, se devo fare un confronto, quello è stato un anno bellissimo, perché ho cominciato con Delta, poi sono passato alla banca di diavoli e poi sono andato a fare Denginsan e le otto montagne, che mi hanno fatto stare fuori casa per sette mesi, fondamentalmente, tra paludi, montagne, Norvegia, e io comunque non c'è poco da... cioè, io riesco a trovare una dimensione quando non ho a che fare con la routine e con quello che conosco, che mi costringe a non una crescita, ma ad una scoperta di cose che non conosco, di reazioni che non avevo considerato, anche di pensieri che non avevo considerato e quindi è vero che poi la recitazione è finzione, ma inevitabilmente ha a che fare moltissimo con la vita, no? E quindi se la vita gira, gira anche tutto il resto.